Ragazzi se avete bisogno di crediti passate da frenzyfifa.com, trovate il link qui sotto in descrizione, una volta entrati sul sito selezionate la vostra console, il metodo con cui passare i crediti, selezionate ovviamente il taglio che volete acquistare, compilate i dati con la vostra mail di FIFA, la password e i codici di backup che trovate sul sito di Origin, aggiungete il carrello, ovviamente fate il checkout e dopodiché inserite il codice home per avere uno sconto pazzescamente incredibile. Vi ricordo che se volete pagare con Paypal potete contattarli su Whatsapp direttamente dalla descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi ragazzi siamo qui, perché? Perché ragazzi è uscita la squadra completa su FIFA 20, la squadra completa dei Toti e quindi ragazzi visto che Andrea ieri appunto si è messo a fare, a provare no? A trovare, a fare il record dei Toti in Goft, oggi proveremo a batterlo, come state vedendo questi sono gli undici Toti, domani ci sarà anche il dodicesimo? Sì, chi sarà secondo voi? Commentate qui sotto! Esatto, quindi partiamo subito, allora, cosa facciamo raga? Cosa facciamo? Leggenda, leggenda, perché noi siamo leggenda? Quindi quello che c'era? Partendo, arrivai leggenda. Guardate, basta che mi da un bel modulo, per fare un bel bravo. 3-4-3, vai. No, no, 3-3-1. No, 4-3-1. No, 4-3-1. No, no. E con quello ho fatto un cerco di toghi. E allora Andrea, con questo lo vedrò dibatterti, sperando che, ho mai seri sempre lui sfiga nei capitani, comunque. Ma che si, una cazzata, una cazzata. Si vede anche lui era un gran capitano. Ha ragione, vero, faccio i capitani. Sono dei gran capitani, tipo Iguain, no? Di Maria, così qua esce Mbappé No Il discorso è inteso Omar Il discorso è inteso Vediamo un po' ibraclata Molto inteso Vai Ma Omar, cavolo, un po' di decisione su quel tasto quando premi Devo premermi No, vedi Aspett, fa così adesso, prendi De Jong No, prendi De Jong Così esce De Lick Bravo, vai Bravo, che non c'è neanche il link Ok Lo sposta, lo sposta Ah, ok, giusto, lo sposta Però qui posso fare il link sia con Liver, qualsiasi a tutti e due Eh, tu piaci, ti sei terminato Sì, non uscì, non ho capito Dai, trent Ecco, ecco, ecco È uscito, tra i vittori Ho un po' il setto di vita di di me Eh, magari, lo è Simbappé Per quinto, ti do Forza Oh, guarda, la vesce di mano Cioè, stasera per voi Dai, Messi ancora Dai, raga, bello Bernardo e c'è sbissi, dai Ultima, ultima carta Dai, ultimo Dai, dai Ok Vai, Matteo Ti zera Eh, fa maglia con la nuova Cioè, nuova, il 120 Vabbè, ha fatto Stif per quello Quindi Zero totti del primo draft Però c'è Ronaldo E possiamo farne un altro Ma la guila Prossimo draft Vai Che qua si può sempre far meglio Però secondo me Se lui vede che noi siamo Dei principi Dei ben senti Dei ignoranti 3, 4, 3 No Questo Questo, questo, questo Ma che schifo Possono uscire le arie Il 3, 4, 3 3, 4, 1, 1 Quanto l'altro Il nostro Posso uscire le arie Vai, prendiamo questo Tanti terzini Non ci servono noi A meno che non esca subito Madonna Figo esce sempre E vabbè Perché sono dei buoni capitani Porta un vabbè Dennis Dio santo Dai cc Madonna Omar Prossimo attimo Porca miseria Porca va Beh, di ovviamente Non può uscire niente Perché non sono Totti Pensavo che tu fossi Che talmente bravi Che facessi uscire anche Aspetta Guarda questo qua 13 Guarda Guarda Aspetta Guarda come tu è Ok Che molesta Sergio perché a destra Può uscire Nessuno Nessuno Tranne Vandaic Vandaico Dai delicto Bella la carta di te Così là fuori Ma è la Totti Marcello Appunto Per quello Di Bala Perché c'è così Dialicto Ma che schifo Adesso faccio così Qua c'è delicto Ma perché sfanquilizzare Oh No perché adesso c'è delicto Speriamo Fa la doppia Ma no Ma lo temi Ma no Ma no Ma no Ma no Ecco Dei Mario Beh lui è il Totti Però non lo posso prendere Perché Perché non hai preso Il quadrato Perché il quadrato Fa un tappo in te Ecco Guarda Totti Vai Dai Coprendo Così Così Il culato Ma che forno Madonna di Dio Vediamo Vediamo Oh Oh Sono due Grazie Totti Come boom Yeah Totti devi trovarne altri tre adesso E mi raccomando Uno dietro l'altro Guarda 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 Vabbè ci sta ci sta Le butelle Vabbè Tanto abbiamo ingranato Eccolo 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 Pepe Oh Oh Pigliano pigliano No Totti Senti che cazzo fai Adesso esce Adesso esce Ma Totti Adesso esce Siamo Totti No Vabbè prendi i messi Totti Bravo Tant'era l'ultimo Vabbè tanto il mezzo L'altro Grazie tassi Facciamone un altro Prossimo draft Come on Come on guys Aspetta mi sto anche mal Ma fa niente Harry Vai tu rispondi È commercialista Dai poi dai 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 Sì Sì Allora nemmeno Allora ma secondo me Questo draft è buono È un vero Come on reel Ma Dai 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 guarda io prendo salato non lo prendo di mani scusatemi ragazzi in interruzione vieni arrivieni don't worry don't worry be happy be happy no we want Sadio main Sadio come on eccolo è uscito vedi io lo sapevo sempre lui si e qui raga e qui raga la festa come si chiama di nome cristian antonio mi sembra dai 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 ma non tre no the light tommaso delitto è uscito a tommaso e io ma noi cantieri per napoli per esplodere prossimo a cavolo madonna messi ci diamo sempre commessi fatti due toti nel terzo che ho detto ok prossimo draft come on come on come on 4 3 passo 9 no ci prendi quello 4 4 3 no 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 non c'ho le ali non c'ho le ali le ali faccio questo se non c'era prendi venuto con cioci vai questo dai però partiamo con il toti subito porca miseria esagerate si draft tutto quanto da l'acqua è migliato per un poco e gli americani perché non si impegnano devono variare un po' questi fatti l'hai chiamato ma adesso guarda c'è lo dite dombele in veneto che ne so sempre una parola veneta dombele dombele no è più milanese dombele no mi sto scocciando mi sto proprio sono deluso so ma molto deluso eccolo guardate non esci ecco sono i punti o i titoli però facciamo la in contratto quando gli schifo tutti Rania non lo trovi uno one-two-three and skip come on ok bello è fidu and one and two and three and skip 1,2,3 e skip! Oh no! Oh shit! Sempre messi alla fine! Sempre messi! Maron, ma me la voglio escerà 3-4 cazzo te! Voi il risultatore che le hanno dei yay! Comunque, dovremmelo sboccare in bagno, io o dove io? Vuoi una mano? No! Oh no! Gettone draft ragazzi! E questo è il gettone del toti! E' estrema! Andati! Vuol dire che siamo dei pro! Certo! Dammi il 4-3-3 col C o C! Eh, non 3-4-2! 4-4-2 però! Prova dai! Oh, anche questo! Però, The Bruin! Una volta puoi provare il C o C secondo me! Ok, The Bruin è uno! Le ali sono due invece! Eh, infatti! Poi ho 4-4-2! Però qui ho anche i terzini! No, facciamo questo dai! Facciamo questo a Tali! Adaro di Natale! Forza, 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 forza! Uh, zitta! Non vedele zitta! Non vedele zitta! Prendi mail che te lo mette Ada! Oppure... Eh, è un pacchino troppo! Sì, sì! Prendo un figo! Bravo! Quell'altro lasci di più! Oh, io gli butterei subito noi di riservi! Ma l'ultimo! Facciamo una cosa strana! Facciamo una cosa strana! Guarda! Riservi! Ma è sicuro! Ma è usciva sempre messi! Ok, si esce messi! Dieci poteva essere toti! Ho fatto una bella stagione! Neymar poteva essere toti! Eh, sono diversi però, eh! Visto! Eh, sono capito la pagina adesso! Eh, perché lo stiamo... Stiamo facendo una cosa che lui non si aspetta! Per questo! Al contrario! Esatto! No, quando esce qualcosa non è toti! Eh, non so, però... Tipo quanto vuoi usci! Forza! Ancora Crespo! Ah, che è l'abbonamento! L'abbonamento a Crespo! Infatti lo faresti l'abbonamento a Crespo! The Young! Cante! Ragazzo c'è tutti i toti! Pre-Ramsay! Quando segnare... Quando segnare... Guarda! Ma perché c'è, ci fa uscire tutte le carte che sarebbero toti? Ma non lo sono! Ma non ci dà il toti! Erano già 4, eh! Robertson! Guardalo! Ma ti da... Ti da... Delicto! Delicto! Sì, sì, eccolo! Delicto! Guarda! Vabbè, hai fatto un record! Secondo me li dobbiamo schippare! Skip! Certo! L'ho detto! Calma, calma! Skipiamo anche questo? Sì! No! Quasi, quasi, quasi! Dai! Mo' schippiamo di nuovo! Delicto! Tio, tio, tio! Eee... Skip! Nincaa! Ah, non ti si bella! Ah, non ti si bella! For una volta! Ok! Un altro toti! C'è, ne stiamo trovando uno per draft! C'è, ah, vaiù! Ma fin fa! Non deve sapere che abbiamo messo altro per questo! Ce la facciamo fare un draft con più di un toti? Quindi, ultima possibilità! Come on! Eri tutto bene? Sì, eravamo solo ti ho preso un attimo! Vabbè, meno male! Allora hai ricevuto dai! Eh, cosa avete fatto per ultimo? Abbiamo fatto il dilettante! Allora, estrema raga! Perché noi siamo degli estremi! Va bene, estremizziamo allora! Dammi 433! Oh, eccolo! Andre! Guardate te lo consiglio! Buono! Buonissimo, veramente! De Brui, subito! Ok, restante zitto! Vabbè bruciato! Ehi, bocca! Ero! Overmars! No, prendiamo questo! Ma lo diceva bene, esatti! Però l'ho fatto per te, eh! Perchè quando è uscito il Messi? Non è un altro, eh! Oh! Porca! Allora, attiti! Ancora ancora un altro! Eeeh! Garnicino! Cicci! Allora Omar, secondo me... The Young! Come facevi a saperlo? Eh, lo sapevo, che sono un grande! Prova, devi scegliere l'altro? Eh, vabbè! Qui, Kevin, hai scegliere? No, sì! Kevin! Ma... Kevin! Ma veramente... Eccolo, eccolo, ecco il Todi! Siii! Dammi 5, dai! Ma ci mi sapevo, sapevo! Sapevo, sapevo! No, non te lo dico! No, la chiusa di... Perché mi fa male! Delicta! Eh sì! Allora, c'è l'altro Todi a destra! Qua? Vado subito! Trent! 31 e 32! Isla! Isla e Todi! Isla! Vai! Vai l'attacco! Vai la! McDonald's! La 24 ore! Mi stanno il piede, il mio santo! Vai, è uscito a McDonald's! Insieme a lui! Ma c'è pure Burger King! Home! Cos'è il Pod! Henry! Riserve! Marra! Ma... Ma... Beh! Intanto due PSG! Due PSG! Però manca poi esce il pop e quanto scommetti! Ok, quanto avevamo scommesso! Ederson! Ederson! Dai uno! Dai! Raga! A me da dire che ne ho trovati due! Ehm! Gli ali sono male a 400! Dai faccio uscire! Ma veramente! Più scarso! Madonna del Carmine! Allora! Allora! Fa' un'altra volta! Più Asensio! Asensio! Allora! Se esce messi dopo un passotto alla delegata! Ok! Se esce messi Toti! Vai arrivare! Vai arrivare! Vai arrivare! La... Camichina è riuscito! Vabbè ragazzi! Ci abbiamo provato! Ci abbiamo provato! Ci abbiamo provato! Il massimo che abbiamo fatto è stato un Toti! Andrea quanto hai fatto tu? Tre nella squadra! Vabbè vuol dire che almeno tre si può fare! Non oggi! Non con me! Magari la prossima volta si potrà fare! Certo! Quindi ragazzi mi raccomando! Non mi piace! Commentate qui sotto con il dodicesimo Toti! Se tu non hai scriviti al canale! Grazie a Vise! Grazie a tutti! E ora come sempre! Ci vediamo! Un abbraccio a Viglia!